Miriam hai combattuto poco fa chi è a Tarquinia come è andata l'emozione è stata tanta nella città con tutta questa gente non me l'aspettavo e ringrazio tutti è stata un'emozione unica con un avversario molto degna che con già molta esperienza anche internazionale è stato un match spero tecnico bello da vedere è andato bene. soddisfatta al di là del risultato sono molto soddisfatta ma potevo dare di più l'emozione mi ha un po' bloccato nella mia città con tutte le persone che amo e conosco è stato un po' così però è andato bene complimenti in bocca all'uomo e grazie mille Cristian appena sceso dal ring ci abbiamo visto bello determinato matura tutto bene stasera tutto a posto per me c'era bello equilibrato ma sfruttando il mio jeppe destro e abbiamo portato a casa il risultato senti come ti sembra questa serata questa serata è la mia serata emozionante ancora in bocca al lupo del futuro grazie delle parole appena sceso grazie ciao grazie